Sono il capitano John P. Andrews e sono qui per reclutarvi nella fanteria dello zio Sam. La fanteria è quella che ha maggiore esperienza all'interno della nostra forza multinazionale. Perciò ci chiamano la punta della lancia. Per questo riceverete un addestramento individuale per essere pronti a tutto. Le istruzioni che riceverete si concentrano sulle abilità con il fucile e il combattimento corpo a corpo per affrontare il nemico a qualsiasi distanza. Quindi, sulle distanze più lunghe, vi affiderete alle vostre capacità di fucilieri per abbattere il nemico. Da vicino, imparerete a fare un uso letale della baionetta. Più sudore verserete qui, meno sangue in battaglia. Finché avrete i vostri commilitoni e il vostro fucile, nulla potrà fermarvi. E se qualcosa provasse a farlo, lo toglierete di mezzo a colpi di baionetta. Mettiamoci al lavoro. L'avio trasportata vi dà il benvenuto. Addestramento, forma fisica e preparazione sono i nostri valori. Un avio trasportato deve essere fisicamente perfetto. Sempre lucido e presente e con un coraggio da leone. Nessuna missione è troppo rischiosa per noi. Siamo i primi a combattere e gli ultimi che i nemici vorrebbero vedere. Siamo rapaci che piombano dal cielo. Se vi credete all'altezza, preparatevi e andiamo a fare il culo ai tedeschi. Statemi a sentire. Prima ce la sbrighiamo con questi preamboli, prima scendiamo in campo e facciamo saltare tutto. Io sono il maggiore James Parker, divisione corazzata britannica. Le nostre forze corazzate hanno una missione, un'unica missione. Attaccare e distruggere il nemico. Siamo specializzati nel combattimento diretto contro mezzi blindati, fortezze e avamposti nemici. E molto spesso ci chiamano per fornire fuoco di supporto ai nostri colleghi della fanteria. L'arma d'ordinanza che viene fornita alle nostre squadre è la mitragliatrice leggera. Come membri della divisione, avete il dovere di aprire la strada ai commilitoni. Fate la vostra parte o non potranno fare la loro. Ci imbattiamo per il re e la nazione, ma soprattutto per i nostri compagni. È un onore far parte della corazzata. Devi ricordarlo. Ora, mettiamoci all'opera, ok? Benvenuti, soldati. Questa è la divisione montana canadese, la migliore unità di tutte le forze armate e alleate. Se volete sparare all'impazzata contro i tedeschi, andate dalla fanteria. Ma se volete far contare ogni singolo punto, questo è il posto per voi. Siete gli occhi dell'unità. Non deve sfuggirvi nulla. Il destino del mondo intero dipende dalla vostra mira. Trovate dove appostarvi e completate la missione. Non possono sentirci, né vederci. E quando ci scoprono, è già troppo tardi. Se avete occhi buoni e mano ferma, se avete la pazienza di aspettare il colpo perfetto, se potete zittire il mondo intorno a voi e fare ciò che va fatto, la divisione montana è quella che fa per voi. Attenzione. Benvenuti nella resistenza. Purtroppo il tempo non è della nostra. I nemici sono alle porte, quindi sarò breve. Noi siamo i pionieri di una nuova forza di spedizione, specializzati in sabotaggi e azioni sotto copertura. Col favore del buio, rubiamo armi ed esplosivi ai rifornimenti nemici. Disponiamo di munizioni incendiarie che danno fuoco ai nemici, trasformandoli in mucchi di cenere in pochi istanti. Chiunque voglia unirsi a noi, deve essere pronto a sacrificare tutto per il bene dei compatrioti. Noi siamo gli spedizionieri francesi. Siamo il fuoco ardente che raderà al suolo l'impero dell'asse. Vive la Résistance. Vive la France.